Lo facciamo con Ermete Realacci, che è presidente della Fondazione Simbo e l'Ambientalista. Buongiorno. Perché? Perché il governo nel PNRR ha destinato una cifra consistente, circa 70 miliardi per la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Allora, ne parliamo subito. Prima però vediamo questo approfondimento, questo servizio che la collega del TG1 Angelini, Patrizia Angelini, ha fatto andando in Molise e scoprendo questa realtà. Guardate. Ci troviamo in Molise per scoprire come l'economia circolare abbia ispirato alcuni giovani imprenditori sotto pandemia, creando nuova occupazione. L'economia circolare del Molise parte proprio da qui, dagli scarti della plastica. Il recupero etico-sostenibile è la sfida industriale di tre imprenditori della provincia di Isernia, per innovare e rendere più green il territorio grazie all'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della nuova programmazione europea. È una nuova impresa di filiera integrata che, partendo dalla raccolta, dal trasporto e dalla valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, tende a coniugare attraverso il mondo della ricerca e dell'innovazione il complesso mondo dei rifiuti con quello del tessile. Una filiera che, vantando la collaborazione di università, enti di formazione, del nuovo centro ricerche industriale di Pozzilli e col know-how delle maestranze della zona, ha riconvertito anche l'ex polo dell'alta moda ITR. È importante investire in questo territorio, nel settore della moda, per riportare in auge il distretto industriale, per non disperdere le competenze e le professionalità ancora diffuse nella zona, di riqualificare e fornire nuove prospettive in termini occupazionali, qui da sempre nel settore tessile d'eccellenza, partendo dalla formazione. Recupero e rinascita di una realtà del sud che potrebbe diventare competitiva nella moda biosostenibile, ma anche pionieristica sul piano del benessere e del turismo, come già lo stanno facendo con successo altri giovani imprenditori agricoli della provincia di Campobasso, dove l'economia da circolare si trasforma in elicoidale. Ispirandoci alla coclea delle nostre chiocciole, non puntiamo solo sull'economia circolare, recuperando e riutilizzando i prodotti ortofrutticoli di scarto della grande distribuzione, ma cerchiamo di andare oltre con l'economia elicoidale, ovvero cercando di esplodere e valorizzare al massimo tutti gli aspetti collegati all'allevamento elicicolo, dalla biocosmesi, alla formazione ed educazione ambientale, alle degustazioni innovative, fino ad arrivare al turismo esperienziale. Senza dimenticare le proprietà organolettiche peculiari e quelle nutrizionali particolarmente indicate per una dieta a basso contenuto glicemico e anticolesterolo. Allora, metteria lacci, ci sono in Italia tanti esempi virtuosi di economia circolare, come quelli che abbiamo appena visto, anche nella moda, perché pochi sanno che la moda è un settore particolarmente inquinante, eppure in Italia, e consuma tanta energia, tanta acqua, eppure in Italia ci sono esempi virtuosi. Allora, per tornare, come diceva Monica, al tema del PNRR, qual è l'impegno nel PNRR per aumentare la diffusione dell'economia circolare, recupero di materie, eccetera? Beh, innanzitutto diciamo che i soldi ce li danno per questo, nel senso che l'Europa non perché è più buona, ma anche perché è più intelligente, perché capisce che la missione dell'Europa è produrre innovazione e qualità. Da questa grande quantità di risorse, di cui una buona parte arrivano all'Italia, su tre terreni, che sono la coesione, quindi anche sanità, non lasciare indietro nessuno, la transizione verde, cui vanno il grosso delle risorse e il digitale. L'Italia deve rispettare queste linee che l'Europa ha dato, perché le risorse che arrivano all'Italia, come è noto, sono le più ingenti fra quelle che vengono date ai paesi europei. Ma questa è una grande occasione anche per rendere la nostra economia più forte e più competitiva. Come dicevi tu, le esperienze in Italia sono tantissime. L'Italia vanta, per esempio, nel campo dell'economia circolare, molti primati, perché noi siamo il paese che recupera più materie prime nei cicli produttivi in Europa, quasi il doppio della media europea, più della Germania, perché noi da sempre siamo abituati a fare i conti con i limiti. Per esempio, noi siamo un paese povero di materie prime. E recuperarle, riutilizzarle, ci rende più competitivi e ci fa risparmiare tanta energia. Quindi è la resilienza, in fondo. Sì, è la resilienza, ma insomma, che si incrocia poi anche per parlare di moda e per parlare di tante altre cose, anche con la nostra propensione a produrre cose belle, no? Adesso ho sentito parla che siamo nel Molise. Che è un'esperienza di questa esperienza molisana, per l'appunto? Sì, beh, questa è un'esperienza molto interessante. Ce ne sono molti in Italia, piccole e grandi, però c'è un saperfare antico che noi dobbiamo oggi investire, i nostri talenti, in questa nuova sfida. Per esempio in Molise, forse molti non lo sanno, c'è la fabbrica più antica d'Italia. È la pontificia fonderia Marinelli di Agnone, che fa campane da oltre mille anni. È una delle fabbriche più antiche del mondo e fa delle cose bellissime. E sempre in questo piccolo comune, Agnone, c'è anche uno straordinario caseificio, il caseificio di Nucci. Insomma, saperfare che adesso si investe anche in questa sfida verde, che è sempre più importante. Io invito a guardare a volte le cose anche con occhi diversi. Stanno per iniziare le Olimpiadi di Pechino, le Olimpiadi Invernali. C'è una cosa che forse non tutti sanno, cioè queste Olimpiadi sono senza neve. Nel 8 anni fa le Olimpiadi si tennero in Russia e il 60% della neve era neve artificiale. 4 anni fa si tennero in Corea del Sud e l'80% della neve era neve artificiale. In queste Olimpiadi cinesi il 100% della neve era neve artificiale. E è sparata da cannoni italiani. Questo ci fa piacere, cannoni spara neve italiani. Questo ci fa piacere perché anche questo è saper fare italiano e speriamo anche di sentire l'inno italiano tante volte in queste Olimpiadi nelle premiazioni. Però questo ci fa capire quanto questo tema sia importante. Non bastasse il po' in secca con una portata che è paragonabile a quella estiva. Quindi l'esperienza di cui abbiamo parlato è un'esperienza che ha molti valori positivi. Costruisce nuova impresa, occupazione, innovazione, ci fa risparmiare energia e quindi riduce il costo delle bollette. Perché per capirci la maniera migliore per ridurre il costo delle bollette è usare bene l'energia, non sprecarla diciamo. Ma ci consente anche di fronteggiare questa crisi climatica su cui l'Europa investe, ripeto, per rendersi più forte la propria economia. Grazie Ervente Rielacci.